Il mercato è sicuramente turbato da una serie di elementi geopolitici e che non si manifestavano da molti anni, da decenni, come quello dell'inflazione. Diciamo che il fenomeno più evidente per gli investitori in questo momento è l'inflazione da un lato e la guerra russa-ucraina. La guerra russa-ucraina ha avuto un importante effetto sia a breve termine perché ha aumentato questo effetto di aumento dei prezzi, ha creato problemi sulle catene di distribuzione e quindi ha creato tutta una serie di scompensi al mercato che hanno una durata non stimabile nel tempo, ma sicuramente l'elemento più importante è quello che è finito il dividendo di pace di cui le nazioni occidentali hanno usufruito sostanzialmente dalla fine della guerra fredda. La finita di dentro di pace porta probabilmente a dover riflettere molto di più sui temi della sicurezza rispetto a quelli dell'efficienza o del prezzo più basso a tutti i costi, perché molte catene redistributive dovranno essere accorciate, probabilmente le produzioni dovranno essere reinternalizzate o meno all'interno degli Stati, porta a una riflessione sulla sicurezza in moltissimi ambiti, quindi tra i temi di investimento più solidi per il prossimo futuro quello che vediamo è la sicurezza declinata non solo dal punto di vista della sicurezza militare, ma anche quella ambientale, alimentare, perché anche sulle catene alimentari si sono creati una serie di scompensi che vanno sicuramente rivisti e questo è uno dei primi temi. Il secondo tema è sicuramente quello dell'inflazione, per cui sarà fondamentale selezionare all'interno di portafogli azionari società che hanno un potere di scaricare a valle sui consumatori i loro aumenti di prezzo, quindi società con un fortissimo pricing power come le società del tabacco, le società del lusso estremo, alcune società industriali con margini particolarmente elevati e uno degli altri temi legati all'inflazione e al rialzo dei tassi di interesse è sicuramente la partecipazione ai portafogli dei titoli finanziari che sono assenti sostanzialmente dai portafogli degli investitori ormai dalla crisi del 2008 e poi con la crisi dell'area euro del 2011 e quindi questo è sicuramente un momento diverso per posizionarsi su questo segmento di mercato. Un altro tema secondo noi fondamentale anche per tutte le tematiche di sicurezza è quello delle infrastrutture, infrastrutture sia energetiche ma anche di porti, aeroporti, perché comunque la spina dorsale dell'economia che viene costituita alle infrastrutture deve continuare a espandersi perché nonostante i fenomeni di breve termine che abbiamo vissuto di interruzioni delle catene o di spostamento delle persone, questi sono fenomeni inarrestabili. Il terzo filone interessante è sicuramente quello della rivoluzione che stiamo vivendo a livello tecnologico in cui i tre segmenti che in inglese di solito chiamano ABC della tecnologia, cioè l'artificial intelligence, quindi l'intelligenza artificiale, i big data e la sicurezza cibernetica sono sicuramente tre dei sottosettori della tecnologia che hanno i più ampi tassi di crescita stimati per i 5 anni, quindi questi sarebbero tendenzialmente i nostri asset class preferite per i prossimi mesi.